Salve e benvenuti in questo nuovo episodio di Xenoverse per Aspere d'Astra. Incominciamo con un Pokémon che non voglio lottare. In questo episodio, forse, si spera, riusciremo a uscire da questa caverna e molto probabilmente inizieremo a prendere il... sarebbe il terzo membro ufficiale della squadra, ovvero il Pokémon del Fossile. Quindi, senza dilungarmi ulteriormente, tagliamo con questo Blingrim. Come lo potete notare, le mosse del mio Terraconone che si hanno il massimo. Cioè, del mio Felix. Ok, dicevo appunto, senza dilungarmi ulteriormente, copriamo la Paralisi al mio povero Pokémon. Antiparalisi sta qui. Antigelo, Antidoto. Eh, no, non ce l'ho. Ah, no? C'ho una bacca che ha un effetto simile. Ascoltatura, congelamento... Paralisi, baccaliegia. Eh, ne ho solo una. Vabbè, non fa niente. YOLO. Non è più baccaliegia. Sto piangendo, mi sento male. Nuovo piano. Siamo un bel repellente. Stanno qui. Ok. Usa. Perfetto. La mia unica preoccupazione sono questi allenatori all'interno delle cose. Il silenzio è musica. Damn, che ossimoro. Ok. E trovato a nero pietra. Va bene. Ok. Di qua si sale. Let's go. Corrile per lente. Mi raccomando, finisci in fretta. Ora che ci penso, magari per la scelta del fossil avrei potuto... Sì, utilizzano un altro. Avrei potuto fare una di quelle cose di YouTube. Quei sondaggi che compaiono lateralmente al video. Tipo... Scegli il fossile che devo utilizzare. Però no, non fa niente. Tanto avrebbe vinto spazio comunque. Massimiliano, sai cosa ha comune a hipster e scoprire rovine? Mi piacciono le cose vecchie. Il fascino per l'antico. Va bene. Per l'antico, poi, vent'anni fa si parla. Qui sopra... Che ci sta? No, evitiamo. Questo uomo è abbastanza misterioso. Qui nel culturale è pieno zeppo di rocce interessanti. Guarda un po' qui. Le do il benvenuto. Come posso aiutarla? Compra. Uh, roccia calda, roccia umida. Terra in pesta, grandine... Un giorno di sole. Non mi serve nulla a dir la verità. Ah, ma hai gabbato. Pensavo mi dissi il fossile. Eh, io riutilizzo questo. E vaffanculo. Ok. Che utilizziamo? Però, effettivamente, sì. Come posto è abbastanza... Difficilotto, eh. Ok. Non so se sto facendo bene a usare... A usare cosa? A usare... Spaccaroccia. Spaccaroccia. Dopo chiedo. Perché questi sono sassi differenti, no? Un'uscita? Sì. Ok, ritorniamo dentro perché non ho finito di esplorare. Karuna. La vita del karate inizia con il saluto. Ah, forse sei tu il fratello. Vediamo. Si dice... What the... No, non bastibile, sì. Allora, si dice... Attenzione, è causa di disgrazia. Ok, campione. Ragazzi, ho l'impressione che sto sbagliando a utilizzare... A utilizzare Spaccaroccia per queste pietre. Però forza non l'ho ancora ricevuto. Ed è pur vero che io sto gioco ancora lo devo aggiornare. Pezzo stella. Giù addirittura si scende. Quanto è grosso sto posto. No, vabbè, impazziti. Lo trovo sto fossile, finalmente. Gli sta uno strumento, lì. Un arrecchio del team Dimension. È vitalizzante. Nel senso, faccio una prova, ok? Andate a vedere così. Esplodere il gioco. Borsa. Sono un po' spaventato, devo essere onesto. Ok, West. Dimensioni MN. Ok, non è successo nulla. Buono. Si chiama Gino, questo. Gino, fammi passare. Vabbè. Gino è un disgraziato. Altre reclute qua. Pericoloso. Ci tiene. Ma non stiamo svolgendo delle ricerche illegali? Stupido erottami, ho fatto saltare la copertura. Fermi là. Uh, Alice. Sorry, ma... Qui ti sono corsa dietro, ma vedo che ora se ne passi ecci. Serve una mano contro questi due, e lottiamo allora. Porta la musica. Lotta in doppio pure. G-Storme. Indominate che è debole, perciò il fu... Forse è buio. Me la cavo meglio. Ma ne volevo colpire Clink. Volevo colpire Ondur. Ah, però ho beccato entrambi. Ok, never mind. Grande, Alicia. Ok, c'è un'esperienza. Wow! Che mossa potente per raggio scossa, evidentemente. Brutto colpo, però non fa niente, perché giustamente... ...che può mai fare. Ah, c'hanno più poche. Combinate che è debole alberino là. Forza, Alicia e carriami, per favore. Vai, grande. Bravissima. Tutto calcolato, ragazzi. Voi non immaginate. Ciao. Ma che miseria. Posso utilizzare tutte le mosse che ho una sola volta. E poi... Ah. Mi sa che prima dovevo fermarmi in col centro Pokémon... ...C'è dentro Pokémon sopra. Ma ho capito. Lui sta giocando per tutti e due. Ehi... ...Boy. Imbarazzo della scelta. Vai, foglie magica. Ah, foglie magica. Vai, per forza. A terra. Magari era meglio colpire l'altro, perché Shockboard potrebbe aver usato Scintilla e colpiva tutte e due. E quindi... E infatti, infatti, ragazzi. Come vi ho detto nel senso precedente, mi ha chiamato il VGC di Pokémon. E... Il Format proprio mi ha chiamato per giocare. Però ho detto, lascia stare. Sono troppo sveglio per me stesso. Ma Shockboard è quasi a terra, mi ha aiutato. La carta voce pure, voglia colpire il 3-2. Ma... Ma la potevo giocare meglio? Sì, per forza, però... Scintilla di nuovo. Ottimo. Perfetta questa partita. Ha avuto la meglio sul tuo dimensio. Mi vai. No, terraco. Fermo. Come si blocca? Come si blocca? Come si blocca? No, no. Fermo, 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 fermo. 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 Non è ancora. Non è ancora. Che livello sei? Facciamo qua, ma raggiungi il 5 del tuo livello. Va bene, passate, ma risparmiateci. Se avremo pietà. Uh, è mista dietro. Figata. Cambiamo Pokémon e rendiamo Mono Terra. Ah, ma... Ma sta al 5 del suo livello. Eh... Facciamo che... Ma come sarei di livello? Sarei evoluto. Come avete fatto a usare la sorveglianza? Sarà un'altra lotta in doppio, questa? Pezzo di sì. Sì. Vai, doppio Shockbird. Ma... Tanto che il mio è visibilmente più potente dell'altro. E sa anche usare aria statua il mio. Va detto anche questo. Golbat, questo è esploso, così obliterato, nell'infinito, per l'altro. Errore. Centro Porygon di cui potrei aver bisogno. Sì. Ok. Cura i Pokémon? Eh... No. Fai, basta. Mi sto. Questo poster è di proprietà. Sì, sì. Contateci. No, ragazzi. Comunque non è giusto, perché... Io avevo detto che per questo episodio prendevo il Pokémon del Fossile, no? Ci speravo. Lo volevo, ok? Poi uscivo, facevo il percorso dopo, raggiungevo l'altra città. Uh, i fossili! Eccoli! Non fa niente da... E vai. Sono contento adesso. Mi sono ripreso. Beh, qua stanno altre reclute, ma io le affronterei. Non fa niente. Non lo posso permettere. Tanto giustano i fossili, sono contento. Ok. Super variegato questo team. E noi ne manderemo uno affrettanto pensato. Wow. Sì, ragazzi, voi non capite, io li devo abbattere tutti quanti. No, ma ce ne stanno altri, no? Va bene, inizia a prendere il Fossile. Sei stato davvero bravo a scopare quei fossili, ma ora sono di provvedere il team Dimension. No, una scoperta del genere non può accadere nelle mani di voi criminali. Cadere. Ragazzi, aiutatemi. Siete in cerca di grane? Vi accontento subito. Vabbè, va bene. Anche noi vi accontenteremo. Ok, perfetto. Vai, terraco. Evolviti. Non ti, non ti tartero le ali. Prego. Wow. Siete in gamba, ma non pensiate di aver vinto. Questo è uno dei cofrati grandi per il generale. Non fa niente. Non so come ringraziarvi, ragazzi. Mi avete salvato la vita. Quei delinquenti mi hanno obbligato a cercare fossili in questa grotta. All'inizio mi sono lasciato sottomettere Ma quando ho trovato questi tesori dell'antichità La scienza ha preso il sopravvento Non avevo mai visti di simile Non potevo lasciarli nelle mani di quei tizi Per sdebitarmi vi concederò l'onore di prendervene uno Con voi sarò al sicuro Ok ragazzi E adesso dobbiamo prendere il fossile Vediamo che dice Il fossile è di un'anticopa che è un proveniente dallo spazio Sembrerebbe essere dell'inchiostro solidificato Vuoi prenderlo? Vediamo quest'altro È il fossile di un antico pokemon che abitava sulla terraferma Ricorda l'impronta di una mano Vuoi prenderlo? No Tanto poi li posso prendere tutti e due voglio dire Quindi inizio a prendere questo Cioè in futuro Sì Hai trovato fossile cosmo Prendilo pure tu Io non saprei che farme Molto bene allora vi prenderò questo per analizzarlo in laboratorio Nagi è stato bello condividere una semina avventura con te ma ora devo proprio andare Signore venga con me non può mica attraversare la grotta da solo e senza pokemon Ciao nagi Ciao soro Adesso io questo pokemon Cioè questo Cioè sentite a me Questa cosa quando lo vado a far schiudere Dove sta innanzitutto? Qui Sì Pietra particolare che fai volvere No Nero pietra sto vedendo Se fossi l'antico pokemon premente lo spazio Sembra essere inchiostro modificato Eh spero nella prossima città Questa qua che dice Corpio Con questa c'è un frusaglia e si pescano solo Magikarp Te la concedo volentieri Guardi Tiene Amovecchio Ah figo Spero ti piacciono i Magikarp Ok Effetto il replay è determinato E ora sono imbagliati i pokemon selvatici Ci dovrà pure essere qualcosa in queste pozzanghere Adesso vedo io Trado pepita Moby Gear Esco Bossa Montaggio rapido Oddio che pesco Olè Tenuto caramella rara Ah vedo se c'è altro Ok Tanto il pietra lieve Va bene Non so Se ci sta altra roba importante Però non fa niente Questo qua che dice Un pokemon selvatico Ok Lollone In pratica un tipo Innanzitutto ho toccato Un onyx E poi un tipo mi ha regalato un pezzo stella Perché dice che gli abbiamo salvato la vita Nice Non male Bello ogni tanto Essere ricompensati Adesso saliamo Che diceva Adesso saliamo Che prima ci stava il team di mansion E adesso c'è questo Matteo Senti qui che farsetto Gli ho delle Puff 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 Ammazzate in faccia Vede lei non ci capisce nulla Ok Prendiamo questo Signor Bruno Olè Eppure deve essere qui Si va bene Va bene Qui sopra Le scale Si vabbè Si vabbè Scioccato Speriamo Di qua invece Ok Raitu Wata Ah questo è il fratello Di quello di prima Ok Ho trovato un veneno puro Un velo puro Ok Sapete cosa Io adesso Continuo a esplorare Tutto quanto Ma per la vostra sanità Taglio Che sono già uscito Dalla struttura Ah Canzia dove St'acquariopoli ad est Quindi in teoria Da quest'altro lato Cioè so che ho detto Che sarebbe uscito Però in teoria Da quest'altro lato Arrivo in un'altra città Buono Good Ah qua c'è un piccolo Eppopotas Così Stringiamo Questa Roscia Olie Vai Lo traping Pensaci tu E tu Ad una vitratura Ok Eh sì In effetti Da entrambi i lati Si esce Va bene Ora faccio un paio di ricerche Vedo da dove è meglio E direi che per questo video Spero Non sia durato Così tanto di più rispetto La durata che le voglio far durare È abbastanza tutto Se vi è piaciuto Potete farmelo sapere Con un like Qualcun commento Iscrivendovi Condividendo Tutte queste altre belle cose A presto E noi ci vediamo In un prossimo video Arrivederci E noi ci vediamo